Non è difficile trovare una trattoria, un agriturismo, un luogo d'accoglienza dove è possibile gustare una buona cucina fatta di sapori della tradizione locale o da gusti più moderni. Ecco voi, frittatini di erbe e fiori spontanei. Buon inizio. Grazie. Assaggiamo queste splendide frittatine. Dopo la cena puoi approfittare della quiete della tua stanza e rilassarti leggendo un libro. Oppure puoi godere il fresco della sera sul balconcino della tua camera, ascoltando i piccoli rumori notturni della campagna.